Bundle PoliStudio R30 Plus. Installazione. Il bundle PoliStudio R30 Plus è dotato di un PoliStudio R30 e un Dock HPG5. Iniziare collegando il Dock HPG5 a una presa di corrente. Quindi, collegare PoliStudio R30 a una presa di corrente. Prendere il cavo da USB-A a USB-C, collegare l'estremità USB-C a PoliStudio R30 e l'estremità USB-A al dispositivo HPG5. Collegare l'estremità USB-C del Dock HPG5 al notebook HP. La spia PoliStudio R30 inizia a lampeggiare in arancione. Ciò significa che il dispositivo è in corso di aggiornamento. Non scollegare il notebook o i cavi mentre la spia lampeggia in arancione. La spia può rimanere di colore arancione fino a quattro minuti. Una volta completato l'aggiornamento di PoliStudio R30, si riavvia e la spia diventa bianco fisso. Il dispositivo ora è pronto per l'uso. Trova video più utili sul nostro canale di YouTube dedicato al supporto HP.